E' tempo di verdetti anche per i campionati giovanili pugliesi di palacanestro. Ben quattro i titoli regionali assegnati negli ultimi giorni. In Under-14 Elite Maschile vince Virtus Taranto, passata in casa di Mensana Mesagne, in quella che poteva essere considerata una vera e propria finale. Mentre in Under-14 Femminile, Bozzano Brindisi si è giudicata alla Final Four, battendo i Delfini Monopoli nel confronto decisivo. Due le finali che invece hanno avuto il proprio epilogo nel nord barese, entrambe nelle immagini. A Barletta, sede delle Final Eight di Under-17 Maschile, festeggia Angiulli Bari al pala di sfida Borgia, superando Lions Biceglie per 61-57 dopo aver estromesso la locale New Basket, Valle di Triamartina. Sempre in Under-17, ma nel torneo Elite, successo in rimonta per nuova palacanestro Monteroni, che al pala allo sito di Corato si aggiudica la Final Four contro i padroni di casa della nuova Matteotti, imponendosi per 82-67. Per i leccesi, allenati da Massimo Dima, che in semifinale avevano eliminato Piel e Matera, c'è ora lo spareggio contro Ponte Vecchio Bologna per l'accesso all'interzona. Noi eravamo consapevoli che la nostra arma doveva essere necessariamente la difesa e grazie alla difesa che abbiamo migliorato moltissimo nel terzo quarto, abbiamo trovato le energie giuste per attaccare in maniera diversa. È stata determinante la pressione sulla palla, noi sapevamo che loro soffrivano molto questo sistema di difesa e siamo riusciti ad applicarlo molto bene, non dico la perfezione, nel terzo quarto. Adesso andremo a misurarci al di fuori del territorio regionale e con questa squadra è una delle prime volte che succede. Dobbiamo cercare di far bene perché è giusto portare il basket pugliese veramente a fare una buona figura nel confronto con altre realtà cestistiche italiane.